crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza l'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita per sempre noi cambieremo il mondo ma non lo faremo da soli questa è la mia Bibbia io sono quello che dice che sono io ho quello che dice che ho io posso fare quello che dice che posso fare la mia mente è libera il mio spirito è recettivo oggi io ricevo il seme incorruttibile indistruttibile seme della parola di Dio non sarò mai lo stesso mai 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 non sarò mai lo stesso nel nome di Gesù Amen accomodatevi e salutate chi è dietro di voi per favore con questo microfono mi sento un marziano eh anche ma lo aggiusteranno adesso lo aggiustano ok per un po' faremo questo lungo viaggio e stiamo facendo questo lungo viaggio di Giuseppe infatti il titolo è dal pozzo al trono abbiamo detto che ci si può stare al pozzo anzi alle volte ci stiamo nel pozzo è anche sul trono alle volte il trono che cosa è può essere il divertimento il piacere la gioia il matrimonio avere un figlio una casa no? però poi svanisce ma quello che noi stiamo trattando è dalle esperienze brutte non ci si rimane se si vuole dal pozzo tu puoi uscire non sei destinato ad essere nel pozzo per la caduta di Adamo ed Eva tu non devi subire l'errore di loro per questa ragione Gesù è venuto Gesù è venuto proprio per ristabilire quello che era stato perso Adamo l'aveva perso e Gesù l'ha ritrovato Adamo ha perso il giardino dell'Eden Gesù l'ha ripreso nel giardino del Gethsemane in ginocchio ok? parliamo di territorio dunque non solo ha fatto un lavoro spirituale che non si vede ed è soggettivo lo senti dentro ed è bello e lo manifesti ma poi ha fatto anche qualche cosa di terreno di sostanzioso di qualcosa di irreale non sei destinato ad essere miserabile povero povero e disgraziato se avevi se non avevi il lavoro nel momento che tu inizi a servire Dio dal giardino dell'Eden dove c'erano benessere di tutti i tipi di benessere per causa e per colpa degli altri tu non puoi subire non devi subire la miseria e la disgrazia allora per questa ragione Gesù è venuto ed è partito da lì dal Gethsemane dal giardino per essere sempre sul trono Efesini 2 dice che noi siamo seduti nei luoghi celesti tu puoi essere nel pozzo ma essere seduto nei luoghi celesti la gente dice ma come è possibile che tu sei così travagliato e sorridi sempre sei gioioso non si capisce che cosa c'è è vero sono nel pozzo ma il mio nome è scritto nel libro della vita non tutti lo fanno perché non tutti hanno questa certa maturità ma arriviamo a questa maturità arriviamo alla maturità se cresciamo se veniamo se impariamo se conosciamo l'ignoranza è l'arma micidiale è l'arma del diavolo per distruggere l'umanità l'ignoranza infatti noi siamo stati credenti per ignoranza noi eravamo credenti ma non sapevamo niente non abbiamo mai letto la Bibbia mai conosciuto dunque eravamo credenti di ignoranza ci sta? adesso siamo credenti di conoscenza allunga perciò se qualcuno qualsiasi cosa ti vuole dire ti dice no 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 io so quello che Dio dice di me io adesso conosco e dato che io conosco cosa dice Dio di me allora ti posso dire e ti posso annunciare amen cari allora il sottotitolo il sottotitolo qual è? questo qua stamattina tratterò il sogno che lascia segni stamattina desidero tirare fuori il sogno dormiente se non addirittura morente nella tua vita alle volte ci sono delle situazioni circostanze terribili contrarie che hanno ucciso i nostri sogni anche per i nostri errori probabilmente non lo so io parlo per me ma grazie a Dio noi io sono testimoni che i sogni di Dio non si possono uccidere lo puoi fermare puoi bloccare puoi mettergli un sonnifero ma non lo puoi uccidere l'unica persona che può uccidere il sogno sei tu sono io io posso uccidere il sogno di Dio nella mia vita tu puoi uccidere il sogno di Dio nella tua vita altrimenti nessuno lo può fare nessuno può uccidere i sogni lo possono bloccare lo possono prolungare come è successo per Giuseppe perché è la storia di Giuseppe lo possono prolungare ci è voluto tredici anni Giuseppe per realizzare quel sogno e quel sogno in virtù di quel sogno per tredici per tredici anni fu una contraddizione sembrava che assolutamente non era vero il sogno e alle volte noi notiamo che noi abbiamo creduto a un sogno abbiamo pregato pianto onestamente davanti a Dio ai nostri sogni ma la vita che continua la nostra vita a futuro ci parla e ci dice ma dove non vedi in che condizione sei dov'è il tuo sogno hai sognato mangiando troppo spaghetti allora stamattina desidero tirare fuori questo sogno ma forte stamattina quando ero a casa proprio ho sentito ho cominciato a parlare in lingua ho detto wow si è vero è vero e i punti che ho preso è stato di ieri sera e lo sapete dove quando ero in viaggio pensavo ho detto è vero è così è così e l'ho tirato fuori non era neanche preparato in settimana non l'ho neanche preparato dicevo che cosa mi vuoi dire con questa preparazione che io ho fatto qual è la chiave qual è qual è il succo del messaggio che tu mi vuoi dire signore per me e per la chiesa tra venerdì sera e sabato Dio mi ha detto il sogno ho detto wow e ieri sera tardi perché sono stato per i lavori del locale eccetera sono arrivato anche tardi e poi c'era la partita ma la chiesa vince sempre e ieri sera ho scritto i punti e stamattina voglio dirti non ti arrendere alle circostanze per far morire il sogno perché le critiche tu li puoi vincere che parlano contro i tuoi sogni forse i tuoi famigliani non crederanno ai tuoi sogni ma non possono uccidere i tuoi sogni l'unica persona che può uccidere il tuo sogno o il sogno di Dio sei tu sono io e stamattina voglio svegliare la tua coscienza devi tirare fuori dal cassetto forse arrugginito che è il sogno che anni fa Dio ti ha parlato Dio ha profondamente ha lasciato un segno quel sogno però le circostanze negative contraddittorie hanno fatto dimenticare se non annullare il sogno stamattina nel nome di Gesù risusciterà risusciterà e stai con le persone per favore che credono a queste cose che sono in prima linea prendi chiunque capito non è necessario che devi prendere uno che a te non piace prenditi uno e stai con lui con lei vivi e vedrai che crescerai e riabiliterai il tuo sogno ok andiamo avanti così almeno non ecco già l'orologio funziona vi ricordate la domenica precedente mi allaccio un attimino e poi continuiamo che ho trattato il vestito intanto stamattina vi chiedo in questa settimana perché non vorrei mai che sentite il messaggio della parola di Dio e poi non lo applicate non lo mettete in pratica e vi chiedo in questa settimana il vestito dell'integrità il vestito del profetico il vestito dell'umiltà lo avete dato a qualcuno in settimana qualcuno forse ti ha disprezzato e gli hai dato un vestito di umiltà di perdono l'hai fatto se non l'hai fatto stai diventando solo uditore della parola e non facitore dunque per favore ti chiedo quando Dio ti parla in settimana la domenica sentiamo la parola applichiamola in settimana Dio mi ha parlato Dio ci ha parlato a tutti voi sapete che prima Dio parla a me e poi parla a voi quello che io ricevo prima me l'ha detto a me ho già preso io le bastolate per voi e per me ok dunque però lo dobbiamo applicare e io la voglio applicare se qualcuno ha non lo so o come tentazioni come parlare male eccetera bene tu devi dare il vestito amen cari e quel vestito ha è costato caro è costato caro e tu sai benissimo che le cose care le dai alle persone care allora sulla croce che cosa hanno fatto i soldati hanno preso il vestito l'hanno strappato quattro parti e abbiamo detto quattro parti rappresentano i Vangeli ok se non l'avete sentito avete la chiavetta un euro solo costa siete felici di un euro non è tanto prima lo facevamo tre però giustamente mi hanno detto un euro è sufficiente ho detto va benissimo sono contento quattro parti perché crediamo la Bibbia crediamo la Bibbia perché da Genesi all'Apocalisse hanno un unico linguaggio sono concatenati con un unico personaggio e attore per eccellenza che si chiama Gesù che si chiama Gesù da Genesi all'Apocalisse ok dunque il vestito di Giuseppe le varie tappe che lui ha avuto questi vestiti poi li abbiamo trovato nel vestito di Gesù incredibile ma vero tanto è vero abbiamo detto che Giuseppe è un prototipo di Cristo Giuseppe che cosa è stato fatto venduto dai suoi fratelli vero Giuseppe è stato non accettato dalla sua famiglia infatti Gesù è andato a casa sua cioè in Israele e lo hanno riviutato e via dicendo bene questi quattro passaggi quattro poi il quinto abbiamo visto che è la tunica senza cucitura fatta dall'alto in basso costosissimo qualcuno dice che Gesù viveva nella povertà non è vero allora è nato nella povertà è vero i suoi genitori erano poveri è vero ok è verissimo ma vi ricordo che quando è nato i magi d'Oriente sono venuti nella loro povertà nella loro povertà gli hanno dato oro incenso e mirra e sono diventati ricchi in una borsa piena di soldi non ti accorgi se io ti rubo 100 euro dunque Giuda rubava per rubare Gesù non aveva 10 euro perché se tu nel mio portafoglio se ho 10 euro mi rubi 5 euro io me ne accorgo dico mi ero preparato a farmi il panino qui 5 euro mi manca capisci ma se ho 2000 euro 3000 euro nel mio portafoglio e tu mi rubi 100 euro non me ne accorgo me ne accorgo a fine mese ma come quella ha ricevuto a fiscale tutto preciso ma 100 euro manca me ne accorgo dopo ma non prima dunque Gesù era ricco lui è diventato povero dice la Bibbia in Corinzi Paolo nei Corinzi nell'epistola dei Corinzi dice egli fu povero per noi per essere ricchi noi ma la sua povertà che dice nel suo contesto è voglio farvi notare che se voi fossi in cielo in maniera glorioso splendido ricco perché in cielo va bene quando scendi qui e hai la più bella villa del mondo sei sempre povero mettendo paragone tra quello che è nel cielo e quello che c'è qui sei povero questo è il senso mi sono spiegato ok dunque questa tunica noi abbiamo parlato del quinto che è il quinto vangelo Paolo dice il mio vangelo nell'epistola perciò è il quinto che cosa rappresenta la grazia la giustizia e la santità voglio ricordarvi che se tu dici di avere grazia devi capire che è stato pagato con una giustizia sulla vita di Cristo e se tu credi e conosci questo non puoi non essere santo non è possibile non puoi non essere diverso non puoi essere uguale impossibile se la grazia di Dio tocca la tua vita è come dire quando ti innamori non puoi essere lo stesso è vero o no se quella persona si innamora ed è lo stesso preoccupati deve deve cambiare deve deve sprizzare o no io quando ho conosciuto mia moglie sono cominciato a sprizzare no deve sprizzare se tu incontri un fidanzato una fidanzata ed è sempre un buio tu sembra triste dice questo è innamorato di me ma quando mai non puoi essere innamorato probabilmente dopo dopo due anni tre anni quattro anni ci sta ci mancherebbe che può avere una settimana due di tristezza per varie incomprensioni incomprensioni o discussioni ci mancherebbe ma il primo innamoramento non è possibile essere lo stesso incomincia a lavorare di più incomincia a casa a contribuire in famiglia se prima non buttavi spazzatura incomincia a buttare spazzatura perché i tuoi genitori poi lo diranno alla fidanzata allora non vuoi che la fidanzata sappia che tu non butti la spazzatura allora cambierà tutto deve cambiare tutto perché ti sei innamorato la stessa cosa non è possibile che quando tu ti vesti della grazia di questa tunica perfetta ricca perfetta della grazia di Dio che hai capito perché non è solo un tocco non è solo il perdono non è solo la guarigione non è solo la liberazione ma è una conoscenza che giustizia è stata fatta sulla croce i tuoi peccati le tue le tue condanne sono state pagate lì sulla croce giustizia è stata fatta il caso è chiuso e tu sei in pace e allora vivi in ciò nella santità nella santificazione amen cari chi dice di avere grazia e poi non vive nella santificazione non ha conosciuto la giustizia bene adesso andiamo un po' abbiamo un po' di cose da leggere perché chi non legge in settimana lo legge domenica dato che a casa non leggete tanto allora lo leggiamo qua tanto grazie per il vostro entusiasmo va bene ok entriamo nella storia iniziamo a viaggiare Genesi capitolo 40 dal verso 1 al verso 3 dopo queste cose dunque la storia inizia che Giuseppe è in prigione vi ricordate dove è Giuseppe? in prigione alle volte siamo imprigionati alle volte le circostanze le situazioni noi stessi ci imprigioniamo anche dunque Giuseppe era in prigione dopo queste cose il copiere e il panettiere del re d'Egitto offesero il loro signore il re d'Egitto il faraone si indignò contro i suoi due ufficiali contro il capo dei copieri e il capo dei panettieri e li fece mettere in carcere nella casa del capo delle guardie nella stessa prigione dove Giuseppe stava rinchiuso mi interessa voglio un attimino soffermarmi che per il beneficio del credente il mondo ne trae anche il beneficio è perché c'è la chiesa che il mondo non va al rotoli perché ci sei tu nella fabbrica nel posto di lavoro il lavoro va avanti perché tu sei quello che fermi freni il male quando saremo rapiti quando saremo presi e saremo in cielo ebbene lì il male prenderà possesso totalmente e ci saranno i sette anni della grande tribolazione perché grande tribolazione perché non ci sarà nessuno che fermerà il male per fermare il male non c'è bisogno che tu li devi dire alla persona non bestemmiare no basta che vede come ti comporti non riesce a bestemmiare non c'è bisogno che se sei fidanzato con una o con uno che non è credente non c'è bisogno che tu li devi dire senti se non diventi cristiano noi non ci sposiamo non c'è bisogno che li devi dire così assolutamente tu gli dici mi ami sì sicuro sì con tutto il cuore ti amo sì preghiamo tu chiudi gli occhi quando apri gli occhi lui non c'è allora se n'è andato per conto suo che miracolo che miracolo ma quando tu apri gli occhi lui c'è ok è qui non hai fatto niente tu non hai messo condizione non hai non hai fatto minacce mi ami e se mi ami allora non mi ami vedi non vuoi venire in chiesa tutte queste storie lasciamo perdere non fare niente tu per favore tu sei chiamato a servire Dio amare Dio qualcuno ti ama ti vuole seguire dice ok mi segui mi ami non mi segui mi ami ok preghiamo prego prega tu perché io non so cosa Dio prega tu stringe i denti stringe i denti anche la dentiera poi piano 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 tu vedi che questa persona si rilassa si rilassa e tac viene catturato che bello tu non hai fatto niente non hai discusso non l'hai obbligato a portarlo in chiesa qui non obblighiamo nessuno gli facciamo innamorare con la nostra gentilezza dolcezza amorevolezza se è così bene se non è così appena apri gli occhi scompare stai sereno che chiudi di nuovo gli occhi appare un altro alleluia amè amè ok verso cinque in una medesima notte il copiere e il panettiere del re d'Egitto che erano rinchiuse nella prigione ebbero tutte e due un sogno un sogno per uno e ciascuno sogno aveva il suo significato particolare Giuseppe è venuto la mattina da loro li guardò li vive tutti i turbanti interessante una pausa voglio fare anche qui siamo sensibili al volto delle persone non li salutiamo così per salutare che va bene meglio salutare che non salutare amè salutate le persone non fuggite dalle persone aspetta è là è là aspetta non non facciamo così ma quando salutiamo vediamo il volto guardiamoli negli occhi vedi un attimino se quella persona sta passando perché gli occhi parlano il viso parla se è felice bene se non è felice se probabilmente il mentore non se ne ha accorto o non si sono sentiti tu puoi essere uno strumento per benedire quella persona allora lo vedi nel viso Giuseppe cosa ha fatto ha visto che avevano il volto triste ha detto cosa è successo siete diversi cosa è successo così dobbiamo fare anche noi se mi sfugge a me che sono pastore mi può sfuggire è vero o no perché io e mi può sfuggire ma ci sei tu perché noi collaboriamo noi sopperiamo se io manco da una parte ci sei tu dall'altra parte se manchi tu dall'altra parte ci sono io non è che io dico perché tu sei mancato ah sì sì quello là è carnale abbi pazienza ma ci sono io vedi pieno d'amore sono io ma eh sì ti ha parlato eh ma non ti ha considerato eh sì ma ma lei lui eh sì ma io allora stai difendendo il tuo io non stai difendendo Cristo non stai difendendo la causa di Cristo non stai difendendo che la Chiesa onora Cristo e nessun altro stai difendendo il tuo io stai sfoggiando la tua personalità il tuo la tua bravura no 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 anche se sei bravo non hai bisogno di sfoggiare dice copri l'errore dell'altro dice non ti ha telefonato tranquillo stai sereno sicuramente avrà mille pensieri il pastore chiunque esso sia sai e lo copri amè noi siamo qui per coprirci gli uni e gli altri immaginati immaginati che il pastore micchi viene e mi fa striptease immaginati come lo vedi dice che delinquente che è il pastore micchi è vero o no perché dici si per il mio fisico lo so capite ma a parte di scherzi ma come lo vivrete voi dice come ha fatto il pastore a svestire davanti a tutti il mio pastore ma ho preso lui proprio perché non puoi interpretare male no come è possibile noi facciamo la stessa cosa quando vediamo una persona un credente che sbaglia nel suo mentorato nel suo lavoro nel suo qualsiasi cosa anche nel posto di lavoro qualsiasi cosa che sia non interessa ma quando parliamo male e non lo difendiamo lo stiamo svestendo stiamo facendo vedere la sua nudità terribile lo sapete i figli di Noè Cam cosa ha fatto è andato a visto la nudità del padre perché si era ubriacato quando tu non conosci il sangue di Cristo nella sua realtà nella sua completezza non capisci e ti sbullona e Noè non aveva capito il vino il significato del vino e ha bevuto troppo e dunque si è svestito e il figlio l'ha visto che era nudo è andato e lì nella Bibbia nel testo originale visto era visto con desiderio quasi quasi dice che facciamo andiamo a letto e allora è andato dai suoi fratelli e dice sai papà l'ho visto nudo che dici e i fratelli si indignano cosa fanno indietreggiando hanno preso il suo mantello non hanno preso il loro mantello hanno preso il suo mantello con il suo mantello lo hanno coperto cosa ci dice questo ci dice che quando qualcuno fa un errore è denudato dal suo mantello con il suo mantello devi tirare fuori io devo tirare fuori qualcosa di bello dal pastore Michi il pastore Michi deve vedere qualcosa di bello nella mia vita sì è vero che mi sono denudato la mia camicia non c'è da qui in su sono nudo perché ho fatto un errore bene prende la mia camicia non la sua camicia prende il mio buono il lato positivo nella mia vita e lo copro dice no ma sai il pastore Michi è carino sai proprio si dà è diventato povero senza soldi perché si dà totalmente lo copro con quello che lui fa non con quello che io dico non lo proteggo io con le mie parole non lo difendo non lo copro con le mie parole ma con quello che lui ha fatto con il cuore buono che ha che so che ha allora con quello io lo copro questo è il messaggio perché tutti quanti abbiamo il lato positivo e negativo vero? allora scopri il lato positivo della vita di quella persona che ha sbagliato e da quella cosa positiva tu copri quella persona che ha sbagliato amen cari? che bello che bello che bello verso 7 interrogò allora gli ufficiali del faraone che erano con lui in prigione nella casa del suo padrone e disse perché oggi avete il viso così triste quelli gli risposero abbiamo fatto un sogno e non c'è nessuno che lo interpreti Giuseppe disse loro le interpretazioni non appartengono a Dio raccontami i sogni vi prego raccontatemi i sogni vi prego allora il capo dei copieri raccontò il suo sogno e Giuseppe gli disse nel mio sogno mi stava davanti una vite in quella vite c'erano tre tralci mi pareva che essa germogliasse poi fiorisse ed esse infine dei grappoli d'uva matura lo aveva io avevo in mano la coppa del faraone presi l'uva la spremetti nella coppa del faraone diedi la coppa in mano al faraone Giuseppe le disse questa è l'interpretazione del sogno i tre tralci sono tre giorni fra tre giorni il faraone ti farà rialzare il capo ti ristabilirà nel tuo incarico e tu darai in mano al faraone la sua coppa come facevi prima quando eri suo copiere ma ricordati di me quando sarai felice e si buono verso di me ti prego parla di me al faraone e fammi uscire da questa casa perché io fui portato via di nascosto dal paese degli ebrei e anche qui non ho fatto nulla per essere messo in questo sotterraneo il capo dei panitieri vedendo che l'interpretazione era favolevole cosa fa se aggrega ci sono alcune persone che desiderano sentire quello che loro vogliono allora se tu sei qui e vuoi sentire quello che tu vuoi perdi tempo perdi tempo ti dico con grande umiltà noi vogliamo dire le cose come stanno se noi se noi vediamo un errore tuo se noi vediamo qualcosa che di negativo con amore e con grazia ti diciamo se tu ci dici un sogno una visione un qualsiasi cosa noi non ti diciamo quello che tu vorresti sentire noi ti diciamo così com'è se lo accetti bene se non lo accetti pazienza amen cari dobbiamo essere limpidi cordiali educati amorevoli ma dobbiamo essere limpidi non 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 diamo interpretazioni per assecondare perché se io gli dico così poi lui si può offendere si può qua c'è la scuola domenicale il capo dei panettieri vedendo che l'interpretazione era favorevole disse a Giuseppe anche io nel mio sogno avevo tre canestri di pane bianco sul capo nel canestro più alto c'era per il faraone ogni sorta di vivande cotta al forno e gli uccelli le mangiavano dentro al canestro sul mio capo Giuseppe rispose e disse questa è l'interpretazione del sogno i tre canestri sono tre giorni ancora tre giorni e il faraone alzerà la tua testa ti farà impiccare a un albero e gli uccelli mangeranno la tua carne addosso a te il terzo giorno che era il compleanno del faraone egli fece un banchetto per tutti i suoi servitori alzò la testa al capo dei copieri e la testa del capo dei panettieri in mezzo ai suoi servitori ristabilì il capo dei copieri nel suo ufficio di copiere perché mettesse la coppa in mano al faraone ma fece impiccare il capo dei panettieri interessante tutti quanti sanno che Gesù è morto tutti quanti credono che Gesù è morto tutti quanti credono che è stato un uomo fantastico superiore forse a tutti gli uomini maometto buddha eccetera lo credono ma non credono al sacrificio del sangue di Cristo il panettiere viene ucciso molte persone oggi come mai molte persone credono che Gesù è il figlio di Dio credono che è un profeta credono che è una brava persona sanno che è morto perché la storia lo dice Giuseppe Flavio lo dice e altri storici che non erano credenti hanno scritto libri che Gesù è morto il panettiere è morto ma non credono al vino al sangue di Cristo rifiutano che il sangue di Cristo redime il mondo intero non lo accettano qui è la nostra differenza noi crediamo alla morte di Cristo con tutti i suoi aspetti affascinanti stupendi perché non è morto come come gli altri lui è morto diversamente come sofferenza come dolore e anche come aspetto va bene dunque non solo lo vediamo così ma poi vediamo anche che il suo sangue ha redento l'umanità intera Dio è in pace con te anche se tu lo rifiuti anche se tu dici non mi interessa di Gesù lui è in pace con te infatti Paolo ai Corinzi dice siate riconciliati con Dio perché Dio è già riconciliato chi l'ha riconciliato Gesù sulla croce ha riconciliato l'umanità dunque Dio è in pace sei tu in pace sei tu sicuro del tuo domani sei tu sicuro che quando chiuderei i tuoi occhi e morirai sai dove andrai mi dice ma no nessuno nessuno è risorto Cristo è risorto Lazzaro è risorto ma poi è morto Cristo è risorto e permane lui è venuto è andato è salito è alla destra del padre e ci dice questa è la storia dopo la morte se credi in me non devi fare niente non devi dare soldi alla chiesa per essere salvato lo ripeto non devi dare soldi per essere salvato in chiesa no non devi fare opere grande che stiamo facendo per essere salvato no assolutamente no è gratuito la croce di Cristo il sacrificio di Cristo ha pagato totalmente poi è un segno di gratitudine che noi diamo la decima che noi andiamo nel locale è un segno di gratitudine noi siamo grati a Dio e la gratitudine deve essere visibile visibile deve essere non puoi essere grato e non fare niente non puoi essere grato ed essere seduto ogni domenica ascoltare la parola di Dio e non fare niente non è gratitudine questo non è un segno di gratitudine la gratitudine è proprio questo ho capito ero sulla via sulla strada dell'inverno e Gesù ha pagato un caro prezzo per me adesso sono grato ditemi voglio morire anche per Gesù questi erano i veri cristiani di allora non avevano cellulare non avevano ipad non avevano tutte le belle storie ma vivevano nelle catacombe per paura di essere perseguitati e quando li beccavano andavano anche cantando davanti alle fauci dei leoni perché erano grati tu mi puoi uccidere ma non puoi uccidere la mia anima Gesù l'ha detto abbiate paura di quelli che possono uccidere l'anima che può uccidere l'anima e il corpo e noi abbiamo timore di lui mi vuoi uccidere uccidere mi vuoi prendere la mia bibbia il mio tesoro che la mia bibbia non puoi prendere la bibbia che è dentro il mio cuore l'ha incisa lui alleluia l'ha scritta lui questo libro è perché lo capisco meglio perché ma altrimenti la sostanza me l'ha già scritto qui dentro e nessuno me la potrà rubare gloria a Tio che bello dove sono? sono a Biella no sono a Vigliano allora verso 22 ma fece impiccare il capo dei palettieri secondo l'interpretazione che Giuseppe aveva loro data il gran copiere però non si ricordò di Giuseppe e lo dimentico non si ricordò di Giuseppe alle volte anche il passore si può dimenticare di te alle volte non solo il mentore non solo il credente ma anche il passore si può dimenticare di te ma attenzione se noi veramente crediamo che stiamo servendo Dio ogni cosa coopera al bene per quelli che amano Dio ogni cosa le tue dimenticanze di me Dio lo metterà a posto e mi darà gioia abbondanza gioia senza nessun problema tanto è vero quando poi i suoi fratelli si sono Giuseppe si è manifestato che era il loro fratello loro hanno cominciato a dire adesso ci ucciderà sicuramente allora gli hanno detto Giuseppe sai papà prima di morire aveva detto di non fare niente a noi Giuseppe gli ha detto no tranquilli anche se papà non avesse detto niente tranquilli perché quel male che avevate pensato di fare Dio l'ha cambiato in me noi dobbiamo credere che quando ci sono dei ritardi tu hai un appuntamento sei in strada in autostrada ad un tratto c'è traffico invece di disperarti no ti voglio perdo lavoro saremo se credi veramente che ogni cosa coopera al bene tu la vita la devi interpretare qualcuno in settimana gli ho detto ma pastore come l'hai vissuta questa situazione gli ho detto io l'ho interpretata la vita io voglio interpretare anche quella storia negativa che ci possesso la voglio interpretare interpretarla bene e la vita la devi interpretare perché se non la interpreti ti uccide ogni fattore negativo che ti succederà nella tua vita ti uccide sarai stressato sarai distrutto ogni momento di negatività è un delirio no caro ogni cosa negativa anche quella che la gente si è dimenticato di te non ti preoccupare Dio a suo tempo farà quello che hai perso e lo raddoppierà 41 lo sapete perché dico questo? perché il 41 lo dice alla fine di due anni interi eccolo qua Israele per duemila anni deve stare nel buio duemila anni sono passati duemila anni adesso la chiesa si sta preparando per essere rapita finita il rapimento noi faremo sette anni le nozze dell'agnello Gesù si rivelerà a loro dopo due anni incredibile ma vero e lo dice perfettamente la data dopo due anni alla fine di due anni interi il faraone fece un sogno e gli stava presso il fiume verso 2 dal fiume ecco salire sette vacche di bell'aspetto e grasse che si misero a pascolare nella giuncaia dopo quelle perché dopo quelle ecco salire dal fiume altre sette vacche di brutto aspetto e scarne che si fermarono accanto alle prime sulla riva del fiume le vacche di brutto aspetto e scarne divorarono le sette vacche di bell'aspetto e grasse e il faraone si svegliò poi si riaddormentò e sognò di nuovo ecco sette spighe grosse e belle venire su da un unico stelo poi ecco germogliare sette spighe sottile e arse dal vento orientale che germogliavano dopo quelle altre le spighe sottili inghiottirono le sette spighe grosse e piene il faraone si svegliò era un sogno la mattina lo spirito del faraone fu turbato gli mandò a chiamare tutti i maghi e tutti i savi d'Egitto e raccontò loro i suoi sogni ma non ci fu nessuno che li potesse interpretare al faraone un attimo di pausa allora la sequenza è importante la sequenza che cosa è prima? cosa sono? mucche poi il grano il mondo cerca prima la preghiera e poi la conoscenza noi cerchiamo prima la conoscenza e poi la preghiera non pregare se prima non conosci quello che ti vuole dire Dio se tu non ami la meditazione della parola la tua preghiera sarà povera vuoi stare povero? non meditare la Bibbia vuoi essere ricco? medita la parola vuoi abbondare nella preghiera vuoi che le sensazioni delle cose divine ti travolgano abbi la parola il mondo è giustificato perché il mondo non conosce noi non conoscevamo cosa conoscevamo però? la preghiera avete sentito Giuseppe cosa diceva? non aveva mai letto la Bibbia però diceva Dio 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 la mucca la mucca è un segno di sacrificio la mucca la preghiera poi è arrivata la conoscenza ok cari? ci siete? adesso che siamo salvati adesso che abbiamo conosciuto prima di pregare prima di offrire un profumo soava a Dio devi conoscere devi prima meditare ma non ho tempo ho dieci minuti non ti preoccupare perché ho scoperto una cosa bella che quando Israele era nell'Egitto la manna dice che cadeva sulla rugiada non cadeva a terra sulla rugiada e quelli che si alzavano presto che erano i furbacchioni no? raccoglievano prendevano anche per il domani che erano pieni di incredulità no? quelli invece che si sono addormentati andavano e raccoglievano quello che c'era ma dice la Bibbia bellissimo chi ha raccolto tanto e chi ha raccolto poco nessuno gli è mancato la sostanza cosa voglio dirti io che ho un po' più di tempo di te perché sono nel ministerio bene ho abbondanza di conoscenza ma di sostanza è uguale a te quella è la differenza bellissimo perché Dio non fa parzialità amè allora ricordatevi che quando una persona da fuori che non conosce prega e riceve non gli dite ah non era da Dio già ingomigia a puntare il dito è da Dio perché non dovrebbe essere da Dio perché solo la tua preghiera viene ascoltato la preghiera di quelli che stanno cercando non sanno neanche e dicono Dio se ci sei boh busta pregano a chiunque ma stanno cercando a Dio Dio si rivela assolutamente assolutamente il punto è dopo che si è rivelato come a lui dopo che si è rivelato devi prendere la Bibbia e devi conoscere questa parola perché da quel momento in poi Dio ti risponderà in base alla sua parola perché nessuno è diplomato di ignoranza neanche laureato c'è qualcuno che è laureato di ignoranza nessuno sai sono laureato ignorante nessuno allora siamo chiamati a conoscere non ti piace leggere ti capisco perché anche io non mi piaceva leggere assolutamente ci è voluto 3-4 anni dopo la mia conversione che è scattata l'amore leggevo la Bibbia ma i libri eccetera non ce la facevo non riuscivo ditemi quello che volete però poi è scattata la molla Dio farà l'opera Dio nel libro di Amos se non sbaglio dice verrà il giorno che io metterò fame e sete non di pane e acqua ma della mia parola lui metterà lui metterà però devi iniziare a fare il primo cammino il primo cammino che cos'è quello di dire Gesù io credo che tu sei morto per la mia vita e ti sei dato per me non conosco non so ma credo che tu sei morto per me da lì parte il tutto benvenuto nel club ok 41-46 giusto? sì Giuseppe aveva 30 anni quando si presentò davanti al faraone al faraone re d'Egitto Giuseppe uscì dalla presenza del faraone e percorse tutto il paese d'Egitto bellissimo cosa fa? gli dà l'interpretazione eccetera lui percorre quando tu ricevi qualcosa da Dio vai e percorri quel posto che Dio ti ha detto che sarà tuo non rimanere così incredulo amen sei punti di quello che desidero trattare allora intanto ho nove minuti gloria a Dio intanto sogno la parola sogno in ebraico che cos'è? sognare e halom gutturado deve avere un po' di raucedile se vuoi parlare l'ebraico la sua etimologia che è interessante è halam che essere forte essere fermo essere stabile bellissimo la persona che vive senza sogni è una persona senza speranza una persona senza speranza vive disperato i sogni servono i sogni possono essere i desideri servono assolutamente servono vi ricordo che il sogno parla a noi stessi non parla per gli altri se stanotte sogni di me non essere contro di me per favore perché il sogno è per te gli attori possono essere la chiesa può essere gente che conosci non c'è problema ok? i personaggi possono essere possiamo essere noi possono essere altre persone che conosci ma esclusivamente i sogni sono per te stessi alle volte può succedere come ministerialmente può succedere che tu predichi ma non perché predichi sei pastore giusto? può capitare che tu evangelizzi e raccogli 10-15 persone in un colpo e non è che sei evangelista può capitare che tu puoi fare un sogno profetico per gli altri ok? può capitare certo che può capitare ma lo devi mettere nelle mani del ministro non devi fare tu la sentenza lo metti nelle mani del pastore e dici pastore io ho sognato questo 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 del pastore Michi oggi ho preso Michi del pastore Michi cosa ne dici? io valuto vedo analizzo perché tutti i sogni tutte le cose anche se fossero negative lo dobbiamo tirare su non lo puntiamo ah sì sai anch'io avevo sognato ieri e ci accoppiamo e lo uccidiamo no noi siamo chiesa non siamo soldati contro gli uni degli altri amen cari vedete che se noi iniziamo ad avere questa linea guida cresceremo a dismisura perché siamo alleati lo ripeto siamo alleati sono arrivati sono i nostri io non devo dire qui sono i nostri e poi qualcuno mette la bomba ma tu sei dei nostri di chi sei no no allora devi conoscere devi capire perché l'ignoranza purtroppo Pietro per la sua ignoranza Gesù ha dovuto sgridarlo per la sua ignoranza non aveva ricevuto quella rivelazione l'ignoranza noi non ci possiamo permettere ovviamente non ci possiamo permettere per ignoranza sbagliare allora stabiliamo bene per non sbagliare non far male a nessuno non vuoi sbagliare non sai non conosci non hai sentito il messaggio di stamattina non conosci non ti preoccupare se hai il principio di non far male alle persone stai tranquillo sei sulla strada giusta ma se invece nel tuo cuore c'è una sensazione di far male alle persone allora i sogni verranno contro a favore tuo contro quella persona le visioni saranno a favore tuo contro quella persona le profezie saranno a favore tuo contro quella persona per demolire quella persona perché il tuo cuore non è sano e tutto negatività cadrà su di te se invece tu sei una persona positiva che vuoi aiutare difendere la causa dei deboli di quelli che cadono le cose positive arrivano da te i sogni spirituali divini positivi arrivano la visione positiva perché ha un cuore positivo ma se tu non ce l'hai tutte le cose negative anche visioni profezie negative arrivano a te è un dato di fatto l'esperienza mi insegna chi ha orecchi da odire oda ok primo punto i sogni fanno risvegliare quello che era morto infatti Israele con i suoi figli era diventato vecchio non c'era niente non c'era una prospettiva futuristica Israele o Giacobbe con i suoi figli non c'era nessuna cosa profetica Giacobbe non aveva ricevuto nessuna cosa profetica il figlio l'ha avuto dunque il sogno risveglia qualcosa che è morto due i sogni ti distinguono quando tu sogni ti distingue da quello che è apatico infatti Giuseppe era diverso dai suoi fratelli la sua diversità che cosa è stata la sua diversità i suoi sogni le tue attività la tua energia la tua vita sprizzante spumeggiante e ti distingue c'è quello che è passivo apatico c'è quello che il sogno lo fa lo fa vivere e lo distingue ok ho tre minuti i sogni ti mettono in condizioni di farti uscire dalla zona di conforto i sogni ti fanno uscire dalla zona di conforto cioè a te piace ad esempio un esempio che sto portando piace giustamente sposarti fare figli lavoro tranquillità Dio invece ti dice ok ho un sogno per te andrai in Amazzonia questo è il diavolo ti toglie dalla zona di conforto Giuseppe era in una zona di conforto Giuseppe stava bene Giuseppe era tra i fratelli Giuseppe era ricco con il padre perché l'eredità del padre Abramo Isacco Giacobbe stavano bene poteva benissimo dire a me non mi interessa dei sogni lui dice sogno l'ho ricevuto lo decreto ed ecco che ti sposta da un posto di zona confortevole se tu vuoi essere un predicatore devi sapere che la tua vita cambia se vuoi essere un predicatore e come una coppia vogliono un figlio devono capire che la tua vita cambia perché appena nasce il figlio non dormi più non dormi più la tua vita è cambiata hai sognato di avere un figlio hai desiderato grandemente di avere figlio bene la zona confortevole che arrivava la sera accendendo la televisione mi rilasso finalmente dopo una giornata di lavoro zona confortevole adesso c'è il filo altro che zona confortevole arrivi e devi pulire perché tua moglie sta lavorando e devi pulire la cacca di tuo figlio allora se Dio ti dà un sogno devi capire se tu vuoi essere un pastore non ti puoi più permettere quello che tu volevi adesso perché sarai criticato sarai elogiato sicuramente sarai criticato poi dovrai impegnarti ore a studiare a meditare a stare davanti a Dio se già a te non dici oh leggere allora non sognare e via dicendo ok ci siete quarto i sogni ti liberano perché Giuseppe fu in prigione i sogni ti liberano cinque i sogni possono essere sepolti ma non uccisi infatti a Giuseppe hanno pensato che era morto era finito basta l'abbiamo liquidato i fratelli hanno detto sto cianciarono sognatore del sognatore l'abbiamo liquidato noi invece siamo felici vi ricordate per chi c'era quando Davide Piscopo ha predicato e ha la preghiera del il padre nostro era il padre nostro che l'ha recitato in ebraico fantastico bellissimo l'abbiamo applaudito non abbiamo detto questo qua mi sta superando elimiliamolo io dico ai miei leader senti questo qua è un pericolo pubblico per noi elimiliamolo noi siamo felici siamo felici infatti c'è stato qualcuno che non ricordo chi mi ha detto pastore vorrei capire l'ebraico senti vai da Davide vai da Davide perché lui conosce il mondo vai da Davide non c'è problema così siamo noi che bello no e poi dove siamo il sesto giusto i sogni sono a beneficio di sé e di altri i sogni non sono solo per te se stai creando qualcosa non è solo per te se noi stiamo creando qualcosa lì nel nuovo locale eccetera non è per noi è anche per noi ma principalmente per gli altri ok cari infine non lo so se vi ricordate qualcuno che ha detto I have a dream Martin Luther I have a dream e ha citato versi biblici perché era anche un predicatore citato versi biblici e per la sua il suo discorso che fu il agosto 28 di agosto del 63 davanti a Lincoln Memorial per otto volte ha detto I have a dream io ho un sogno hanno ucciso lui ma non hanno ucciso il sogno solo tanto è vero anche se alcune cose non è che sono d'accordo di Obama un nero essere presidente era impensabile I have a dream di essere uguali specialmente contro i neri che c'era il razzismo a America non in Italia in America un presidente è diventato presidente nero Martin Luther King il suo sogno si è realizzato hanno ucciso lui ma non hanno ucciso i suoi sogni Amen cari Amen crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza l'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita per sempre noi cambieremo il mondo ma non lo faremo da soli a far la vita o la vita non lo faremo